I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like you. Siamo con la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiasai Martini. Sono tanti i temi e dobbiamo anche selezionare. Io partirei però con una battuta sull'ultima operazione della direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha evidenziato dei contatti anche in Valdarno, esattamente nella zona di Bucine. Come ha preso questa notizia? Naturalmente non sono buone notizie per il territorio, questo è chiaro. Però è importante che le indagini vengano fatte e che se ci sono veramente infiltrazioni ci sia l'indagine lusa e si riesca a individuare i soggetti che probabilmente hanno qualcosa che sono riusciti a nascondere o a gestire non per il bene del territorio. Quindi la notizia non è positiva, però mi auguro che queste indagini aiutino a togliere forse anche una cappa di omertà che probabilmente c'era e che oggi si comincia a scoperchiare. Pochi giorni fa in regione la maggioranza addirittura ha bocciato la proposta ai Fratelli d'Italia per una commissione antimafia perché ritenevano che non ce ne fosse bisogno o forse purtroppo ce n'è più bisogno di quanto si pensa. Comunque lasceremo agli inquirenti naturalmente svolgere il loro lavoro augurandoci appunto che si possa fare chiarezza quanto prima perché naturalmente sono notizie che sconcertano il territorio. Peraltro il vice comandante del ROS Giancarlo Scafuri ha detto siamo intervenuti prima davvero che potessero esserci dei problemi più grandi precisiamo che non emergono collegamenti con gli incendi del Valdarno. Da questa attualità passiamo all'altra. Quella dei vaccini, situazione Covid, ci sono ancora contagi, numeri piuttosto pesanti in Valdarno come nell'Aretino e problemi per segnarsi, per iscriversi ai vaccini. Per fortuna possiamo dire che dai dati di ieri l'incidenza per quanto riguarda la provincia si è abbassata quindi la situazione è migliorata e è migliorata anche in Valdarno che era l'unica vallata rimasta zona rossa per punteggio la settimana scorsa. Quindi diciamo che le chiusure delle settimane passate sono servite adesso tocca a tutti noi cercare di continuare ad essere responsabili anche se veramente adesso diventa faticoso per molti cittadini perché dobbiamo cercare naturalmente di non risalire. Adesso però l'emergenza sono i vaccini. Purtroppo come gestione regionale siamo balzate su tutti i telegiornali e la stampa nazionale perché siamo tra gli ultimi soprattutto per le vaccinazioni legate alle fasce fragili e agli anziani. L'altro giorno sono intervenuta perché un'associazione di disabili ha fatto emergere la criticità per le prenotazioni per i soggetti fragili e per fortuna poi l'AS si è attivata con un numero verde che però mi dicono gli utenti si crei molti problemi per la prenotazione. Anche perché si accavallano tanti chiamati. Come succede purtroppo i vaccini sono pochi quindi quando aprono per le vaccinazioni tutti cercano di prenotarsi quindi c'è un meccanismo purtroppo che per ora non siamo riusciti non sono riusciti a gestire al meglio per dare un servizio un po' più efficiente. Io mi auguro veramente che come ha detto anche il Presidente della Regione si arrivi a vaccinare entro fine mese gli over 80 perché sappiamo che è la fascia più a rischio insieme a quelli fragili e obiettivamente non è accettabile che la nostra Regione risulti agli ultimi posti. Ci sono anche altri temi legati per esempio una battuta sulle scuole lei è preoccupata per la riapertura e quindi l'incidenza dei contagi qual è la situazione, la percezione che ha? Allora no, io in realtà ho sempre affermato che non è la scuola che porta all'aumento dei casi per due motivi molto pratici uno perché i ragazzi dentro alle scuole dalle materne fino alle superiori sono particolarmente controllati quindi mascherine, distanziamenti sappiamo che le scuole superiori sono fatte metà in presenza e metà a distanza quindi durante le ore di lezione c'è controllo il rischio può essere solo legato ai trasporti ma come dicevo le scuole superiori avendo comunque ora un accesso al 50% abbiamo destinato tutti i mezzi necessari per un ottimo distanziamento quindi i mezzi viaggiano al 50% di capienza quindi sul nostro territorio non si sono verificati focolai e quindi contagi importanti legati all'ambiente scolastico anche perché dobbiamo dire la realtà come sta se i ragazzi vengono tenuti a casa oltre a creare un grossissimo disagio alle famiglie e un disagio ai ragazzi stessi sia da un punto di vista formativo che sociale i ragazzi poi escono e allora è lì che non riusciamo a controllarli quindi assolutamente credo che la riapertura delle scuole sia stato un segnale importantissimo e sottolineo che i disagi veramente anche psicologici oltre che relazionali che questi ragazzi soprattutto gli adolescenti stanno vivendo da un anno a questa parte sono veramente importanti perché questi ragazzi hanno visto una vita completamente trasformata e oltre a non avere più la socializzazione con i compagni durante la scuola sono bloccate anche tutte le attività ricreative e sportive quindi è fondamentale correre con le vaccinazioni perché dobbiamo riaprire in sicurezza con tutti i distanziamenti e le precauzioni che ormai conosciamo ma dobbiamo riaprire perché il danno psicologico, sociale ed economico che si sta generando rischia di essere superiore a quello dei tantissimi troppi morti che purtroppo in questo anno abbiamo registrato quindi l'unica soluzione è accelerare con l'arrivo dei vaccini e una somministrazione efficiente dei vaccini soprattutto agli anziani e alle parti della popolazione più fragile Ci spostiamo in Valdichiana parliamo dell'ex ospedale, non la fratta ma l'ospedale vecchio di Cortona nel centro storico c'è una vicenda legata a questo immobile? Sì, questa settimana ci è arrivato un esposto che un cittadino ha fatto alla procura alla Corte dei Conti appunto sulla storia di questo ospedale che era di proprietà dell'Asl e che la provincia nel 2006 ha deciso di acquistare a 1.800.000 euro per destinare a scuola superiore purtroppo però questo è un immobile a mio giudizio assolutamente non adeguato ad un'operazione del genere perché è un ex ospedale quindi una struttura di grossissime dimensioni che per i requisiti di una scuola va completamente ristrutturato ha dei vincoli legati alla sua intendenza perché è un bene storico quindi questo immobile è stato acquistato senza aver fatto prima una stima dei costi e della possibilità di trasformarlo in scuola superiore tant'è che dal 2006 ad oggi questo immobile è rimasto lì quindi sta rischiando fortemente il degrado non sarà assolutamente possibile adeguarlo a scuola superiore perché ci vorrebbe una cifra superiore agli 11 milioni di euro che è impensabile per l'ente ma è anche insensato perché il costo per la realizzazione di una scuola superiore nuova è molto inferiore e quindi l'ente provvederà nuovamente a metterlo in alienazione sperando che qualcuno lo possa acquistare alla cifra di acquisto quindi il nostro ente ha comunque pagato in questi anni sia costi di manutenzione che il limo al comune quindi c'è un danno economico per l'ente provincia nell'acquisto e per tutti questi anni che comunque è importante per giunta questo immobile è vincolato nell'uso quindi può avere un uso sociale o comunque legato all'ambito scolastico universitario quindi anche la possibilità di venderlo è molto limitata quindi questa è una situazione purtroppo che mi sono trovata ad amministrare che mi dà grande preoccupazione perché è una di quelle scelte che secondo me sono state in caute e hanno portato a delle spese inutili creando all'ente un problema economico di gestione di un immobile che come dicevo è comunque un qualcosa che è nel centro di Cortone che quindi dovrebbe essere in realtà quanto prima riqualificato e dato a nuova vita sicuramente però non può essere fatto da questo ente e non con una destinazione legata ad una scuola superiore Chissà, viene da pensare che magari si parla tanto di strutture alternative oggi ospedali da campo magari se la ASL se l'era tenuto poteva essere anche una soluzione una battuta giusto per chiudere però anticipiamo un po' i temi che affronteremo anche la prossima settimana diciamo ci sono buone notizie dal bilancio per le scuole e per la viabilità Devo dire che in questi due anni da quando sono vicepresidente delle province d'Italia abbiamo lavorato alacrementi anche con i procedimenti governi per far comprendere l'emergenza legata alla sicurezza delle strade, delle scuole, delle province che sono state diciamo completamente abbandonate da un punto di vista economico dalla legge del Rio del 2015 Stanno arrivando quindi finalmente cifre importanti abbiamo approvato in consiglio la settimana scorsa un bilancio con 29 milioni di euro di investimenti sulle scuole superiori questo ci permetterà di partire con la messa in sicurezza di molti edifici esistenti alcuni che erano inagibili da anni e con la programmazione di nuove scuole tra cui il nuovo liceo Ready che sta continuando a crescere e quindi abbiamo già individuato la localizzazione i fondi per poterlo realizzare sia l'ampliamento del liceo a Montevarchi perché verrà spostato una parte di una scuola che è in una struttura che è praticamente quasi inagibile quindi talmente vetusta che non è conveniente intervenirci quindi potremo anche riprogrammare il futuro di molte scuole della nostra provincia con degli istituti moderni, all'avanguardia e sicuri e accoglienti per i nostri ragazzi e 12 milioni di euro per gli investimenti per le strade e per la sicurezza dei ponti quindi finalmente dopo anni di stop arrivano fondi in questo anno ma anche nel prossimo quinquennio che permetterà veramente all'ente di fare interventi storici importanti per la sicurezza del nostro territorio Bene, abbiamo esaurito il nostro spazio grazie alla Presidente Silvia Chiassai-Martini e poi torneremo insieme a parlare di altri temi Arrivederci, grazie